veramente difficile dire qualche cosa e anche assistere a questo palcoscenico mediatico io cerco di guardare è la cosa prima che mi viene da dire è che non abbiamo giustificazioni non abbiamo pretesti non c'è razionalizzazione che tenga per non esercitare in ogni istante la gratitudine nei confronti della vita se noi partissimo da qua da vedere la grazia vedere la bellezza vedere il dono forse tutto incomincierebbe ad essere diverso potrebbe essere un punto di partenza allora forse vedremo che ciascuno così come noi ha sempre fatto del suo meglio ciascuno non può che fare del suo meglio ciascuno non può che cercare di cavarsela in questo gioco qui per complesso della vita a suo modo ritiene che quello che fa sia la cosa migliore e quindi quindi secondo me partendo dalla gratitudine e dall'accettazione ci potremmo rendere conto che la differenza sta nello stato di coscienza ognuno di noi è in un certo stato di coscienza e vede il mondo da quello stato di coscienza cosa vuol dire stato di coscienza vuol dire se volete l'insieme il posto dove sei il posto da dove guardi il mondo immaginati se sei in cima una montagna o se sei in una grotta o se sei in una giornata piovosa o se sei in riva al mare vedi il mondo in modo diverso semplicemente ognuno da quel posto lì non può che vedere le cose così e allora incominciamo a dire va bene ma quindi quindi non può che pensare in un certo modo non può che sentire in un certo modo non può che agire in un certo modo beh e allora va tutto bene no non va tutto bene ma noi smetteremo di giudicare nascerebbe dentro di noi quella compassione per la giornata evolutiva di ogni essere su questa terra ognuno sta cercando di fare quello che può compreso i nostri governanti compreso coloro che bombardano compreso coloro che cercano di salvarsi la vita e quindi se noi smettiamo di giudicare smettiamo anche di dividere il mondo in buoni e cattivi cosa vuol dire che non ci sono dei comportamenti buoni comportamenti cattivi no vuol dire che ciascuno di noi ha dei suoi presupposti impliciti dei suoi parametri attraverso i quali legge e dice che è buono che è cattivo tira le sue conclusioni questi sono presupposti impliciti sono miti sono condizionamenti e a questo livello che si recita la vera lotta se noi cominciassimo a vedere a non giudicare a non giudicare c'è da accettare che ognuno di noi ha la sua visione del mondo che è limitata dal suo sguardo allora potremmo guardare con anche un po' più chiari e incominciare a discernere il discernimento è vedere le cose diciamo come sono vedere che ciascuno dicevamo prima al suo posto e che queste differenze individuali sono differenze di sviluppo sono differenze di consapevolezza come può qualcuno comportarsi diversamente da come sta facendo se noi incominciamo a fare pace dentro di noi con i nostri presupposti impliciti con i nostri giudizi con ciò che ci fa dire buono o cattivo senza negarlo è legittimo che noi crediamo che qualcuno sia buono o cattivo ma giudicare un'altra cosa se noi vediamo i nostri presupposti la nostra morale i nostri condizionamenti e ci accorgiamo che sono opinioni opinabili gli lasciamo gli portiamo la luce gli accettiamo ed è che così incominciamo a fare pace dentro di noi pace con i nostri potremmo dire le nostre su personalità le diverse parti di noi una volta che fai pace con le parti dentro di te il persecutore la vittima il sabotatore il salvatore l'amante o che ne so il cattivo dentro di te il da colui che si sente trascurato colui che si sente abbandonato e via di seguito quando fai pace con queste parti ecco che incominci a riconoscere che le diverse moltitudini così lontane da te o così vicine non sono altro che persone manifestazioni in un certo grado di coscienza di un certo grado di sviluppo di un certo modo di essere nel mondo e per cui incomincia a fare la pace incomincia lasciare che ciascuno sia al suo posto e hai allora sei pronta e pronto per la giustazione per prendere la tua posizione e decidere come agire rispetto a ciò che sta succedendo ciò che ha intorno per migliorare l'ambiente che ha intorno e le persone che incontri lungo il cammino la pace dentro la pace fuori